dopo aver creato l'account sviluppatore e anche aver sistemato gli elementi grafici che andranno nella nostra applicazione possiamo andare veramente a caricarla nel Play Store di Google caricheremo quel file che abbiamo creato con AppGazer e ovviamente dovremo dare tutta una serie di informazioni a Google sulla nostra applicazione che poi verranno esaminate una volta lanciata in produzione e che determineranno la bocciatura o l'approvazione dell'applicazione quindi clicchiamo sempre qui su Vai a Play Console qui di default mi propone questo io potrei scegliere anche un altro io ne ho un altro, scegliamo per esempio un altro oppure tu la prima volta farai il login al tuo account quindi entriamo nel nostro account finalmente dopo averlo creato entriamo nel nostro account sviluppatore qui troverai tutte le applicazioni che hai pubblicato nel corso del tempo e per pubblicare l'applicazione dobbiamo cliccare qui su Crea App cliccando su Crea App dobbiamo innanzitutto andare a dare un nome all'applicazione e noi la chiameremo Pizzeria Roberto e Mara un nome breve perché poi sullo smartphone si possa vedere non si tratta di un gioco, si tratta di un'applicazione sarà gratuita perché vorremmo che si diffonda il più possibile per la nostra pizzeria e andiamo a confermare che è conforme al programma delle norme per gli sviluppatori che accettiamo le leggi degli Stati Uniti sull'esportazione Crea App a questo punto andiamo nella scheda principale dello store per inserire una breve descrizione dell'applicazione facciamo velocemente senza farla troppo lunga Pizzeria dal 1980 da noi oltre la pizza trovi anche tutti questi altri piatti e qui ci sarà la lista dei piatti andiamo agli elementi grafici quindi carichiamo l'icona dell'applicazione io l'ho messa sul desktop quella cartellina screenshot andiamo a caricare l'icona ovviamente io ho già sistemato i pixel poi andiamo a caricare l'immagine in primo piano che è questa qui potremmo caricare anche un video di presentazione della nostra applicazione mettendo semplicemente il link di youtube a quel video magari si può fare anche un video di presentazione del nostro prodotto del nostro servizio e in questo corso c'è anche una sezione dedicata alla realizzazione dei video proprio per presentare i prodotti e i servizi quindi facciamo il video, lo pubblichiamo su youtube copiamo il link e lo inseriamo qui e quindi chi va a vedere l'applicazione si vede innanzitutto anche un video e poi gli screenshot del cellulare quindi mettiamoli tutti e quattro mettiamo prima l'immagine più importante quindi quella dell'home page del sito della scheda google my business poi mettiamo poi mettiamo dove si trova quindi la localizzazione google maps poi mettiamo i menu e poi mettiamo la richiesta dei preventivi perché a volte ci potrebbe essere anche una persona interessata per avere un preventivo per fare un compleanno a questo punto ho inserito tutti gli elementi grafici richiesti anzi qui anche due di più perché me ne richiede solo due se ne possono inserire fino a otto di screenshot dello smartphone e poi qua giù posso mettere ulteriori screenshot per il tablet eccetera comunque limitiamoci a questi che sono sufficienti qui semplicemente ci sarà da caricare altre immagini e andiamo a cliccare su salva a questo punto abbiamo ci siamo occupati della scheda dello store c'è la scheda dello store che cos'è? è tutto quello che vediamo quando andiamo a scaricare un'applicazione quando andiamo a scaricare un'applicazione sotto installa ci sono queste immagini dell'applicazione ecco quello che abbiamo inserito ora sarà quello che si vedrà quando una persona o cercherà questa applicazione e gli verrà fuori dal play store di google oppure ci andrà con un link con il link che gli potremo mandare noi che vedremo alla fine a questo punto dobbiamo andare nella dashboard a completare tutte le sezioni quindi queste sono tutte sezioni da completare cioè tutte informazioni da fornire a google perché poi la nostra applicazione possa essere caricata la prima è quella sulla privacy cioè google ci chiede nel tuo paese a chi posso fare riferimento per la normativa sulla privacy io qui per non perdere tempo ho già preparato il sito del garante della privacy mi copio l'indirizzo internet lo incollo qui in Italia è questo l'autorità in materia e quindi andiamo a cliccare su salva torniamo nella dashboard ora lo step della privacy risulterà cancellato andiamo all'accesso all'applicazione cioè sono disponibili tutte le funzionalità senza accesso speciale oppure alcune funzionalità sono limitate noi diremo che sono disponibili tutte non è un'applicazione complessa dove andiamo a limitare le funzionalità e clicchiamo su salva torniamo alla dashboard andiamo alla sezione annunci cioè ci chiede se la nostra app contiene o non contiene annunci noi scriveremo sì perché poi magari in ciò che ci sta sotto la scheda google my business la pagina facebook facebook shop potremmo mettere degli annunci sulla nostra attività anzi li metteremo in continuazione quindi salva torniamo alla dashboard classificazione dei contenuti qui bisogna rispondere ad un questionario quindi clicchiamo qui su inizia il questionario dobbiamo fornire una mail valida inserisco la mia e diciamo che la categoria dei contenuti è quella della comunicazione social network e comunicazione per comunicare appunto tutto quello che fa la nostra pizzeria e avere più clientela clicchiamo su avanti e qui dobbiamo scegliere che si tratta di un'app destinata a grandi gruppi di persone a questo punto essendo un'app destinata a grandi gruppi di persone google ci chiede tutta una serie di cose ci dice per esempio se l'applicazione tende a favorire l'incontro di persone per intraprendere una relazione di carattere sessuale noi diremo di no l'applicazione consente la condivisione pubblica di nudità noi diremo di no l'applicazione consente la condivisione pubblica di atti di violenza no condivide la posizione fisica attuale e precisa dell'utente no e consente di acquistare beni digitali no perché si tratta di una pizzeria abbiamo concluso clicchiamo su salva clicchiamo su avanti e quindi andiamo a cliccare su invia per inviare il questionario a google anche questo poi farà parte di quello che google analizzerà ci saranno delle persone fisiche che analizzeranno l'app per approvarla o per respingerla torniamo nel dashboard pubblico di destinazione qui sempre meglio mettere se si vende qualcosa ci siamo in pizzeria ci vanno anche quelli che hanno 15 anni sì però in pizzeria si compra qualcosa e i minori non hanno la capacità di agire quindi da soli non dovrebbero comprare almeno la pizza quindi mettiamo che è da 18 anni in più proprio per essere precisi in termini di legge clicchiamo su avanti avanti e andiamo a fare salva ci ha fatto un riepilogo in pratica di quello che abbiamo dichiarato torniamo alla dashboard app di notizie è un'app di notizie no la nostra non è un'app di notizie salva dashboard è un'app che riguarda il tracciamento del covid la mia app non è un'app relativa al tracciamento del covid flaggo e vado a cliccare su salva ancora alla dashboard e gestiamo la sezione sicurezza dei dati quindi entriamo qui dentro qui ci sono delle informazioni clicchiamo su avanti e la prima domanda a cui bisogna rispondere è se l'app raccoglio condivide uno o più dei tipi dei dati utente richiesti la nostra non condivide nessun dato clicchiamo su avanti qui bisogna cliccare su salva la bozza ancora salva e abbiamo gestito anche questo aspetto poi bisogna selezionare una categoria di app mettere le informazioni di contatto quindi è un'applicazione non è un gioco la categoria si tratterà di affari perché è un esercizio commerciale mettiamo una mail mettiamo un telefono e mettiamo anche il sito internet metto il mio sito internet copio l'indirizzo e lo incollo in questo spazio andiamo a cliccare su salva qui davanti serve il più 39 prefisso dell'italia quindi salva torniamo alla dashboard e adesso vediamo che non c'è più la lista perché abbiamo fatto tutto l'ultima cosa da fare è andare qua giù a selezionare i paesi in cui vogliamo che la nostra applicazione possa essere scaricata quindi aggiungi paesi e aree geografiche noi andremo a scegliere solo l'italia aggiungi aggiungi ed ecco che abbiamo completato l'inserimento di tutti i dati che ci erano richiesti adesso dobbiamo inserire quel file che abbiamo generato con app geyser cliccando qui su crea nuova release dopo aver cliccato su crea release andiamo innanzitutto a dare un nome a questa release 1.0 diciamo prima emissione e andiamo a caricare cercando il file che è stato generato su app geyser che è questo qui ora io l'ho già caricato perché siccome ci vogliono 3 minuti è un file pesantissimo da caricare l'ho già caricato per non farti attendere e lo vado semplicemente ad aggiungere dalla raccolta quindi qui lo seleziono e aggiungi alla release ecco che a questo punto possiamo andare a salvare la nostra release a cliccare su controllo della release non ci dà errori particolari se non due avvisi altrimenti ci sarebbe il pallino rosso e possiamo andare a cliccare su avvia implementazione in produzione e quindi qui su implementa ecco che ci dice che la versione 1.0 prima missione è in revisione a questo punto dal dashboard possiamo andare a visualizzare l'applicazione su google play adesso come ho detto prima non visualizzeremo niente perché si tratta di un'applicazione che è in revisione e quindi non visualizzeremo niente altrimenti cliccando su questo link andremo al link alla pagina esatta all'interno del play store della nostra applicazione potremo copiare qua su in alto dopo quel link e fornirlo ai nostri clienti potremo fornirlo via mail via facebook via whatsapp lo potremmo condividere ovunque quindi come hai visto delle operazioni molto semplici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti